Anche se ero sul punto di svenire da un momento all'altro, ricordo quel giorno come se fosse ora. Fu il giorno in cui la mia famiglia mi accolse e mi rifiutò allo stesso tempo. Baldius e Sarabet, che di lì a poco iniziai a chiamare padre e madre, mi mostrarono da subito il loro affetto facendomi sentire speciale. Oggi come allora, ancora non saprei dire se sentirmi speciale è davvero ciò che desidero, oppure se l'unica cosa che voglio è sentirmi come tutti gli altri. Di sicuro Ruth né mi voleva né mi vedeva come un fratello. E tu chi saresti? Una specie di animale domestico? Non aspettarti che ti porti fuori a fare pipì o altro, per quello dovrai fare da solo. E dovrai farlo per strada. Già è tanto che ti permetto di stare in camera mia.